Ecco a proposito di cose belle, di belle iniziative, dell'importanza di attivarsi, di fare la propria parte, abbiamo in collegamento con noi Fabio Diamante, una persona squisita, straordinaria, che ha deciso di mettersi in moto per dare la possibilità a chi non può studiare di restare al passo. Lo anticipavamo in apertura, Fabio Diamante è co-founder di una scuola online per ragazze afghane. Ciao Fabio, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, è un piacere per me essere invitato nella vostra trasmissione. Qui con me c'è Maria Pia Picciafuoco, la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale ti faremo qualche domanda per andare a conoscere questo progetto più da vicino. Un progetto che ha un nome anche in inglese, lo leggeremo adesso nel tuo sottopancia. Tu sei co-founder e poi ci spiegherai anche perché sei co-fondatore di questo progetto che è la School of Enlightenment. Esatto, esatto. La scuola dell'illuminazione sarebbe. Allora, raccontaci di questo progetto. Beh, diciamo che due anni e mezzo quasi or sono, c'è stato un cambiamento nel governo afgano e hanno iniziato piano piano a bloccare tutto quello che riguarda il mondo femminile, dal lavoro agli studi all'uscita di casa, non possono andare alla parrucchiera, non possono più praticamente andare al parco, non possono più fare niente. E da lì è nata proprio questa idea di creare una scuola con delle basi già più innovative, diciamo, e quindi cominciare con delle classi di leadership, cominciare a parlare di sogni con loro, a fargli fare il loro libro dei sogni, oltre alle normali materie che gli vengono insegnate da delle ex studenti universitarie in loco. Ecco, volevo subito chiedere, visto che in realtà le cose per le donne in Afghanistan erano migliorate, sì, ma per pochi anni, perché si veniva comunque da una situazione pregressa in cui era davvero molto complicato riuscire ad aiutare appunto le donne innanzitutto all'istruzione, perché quello è il primo punto cruciale. Per voi la porta qual è stata? Chi vi ha dato una mano? Beh, questo è un altro punto importante. Diciamo che nell'agosto del 2021 io ho iniziato questo collegamento e non avevo nessuna connessione, non sono mai stato in Afghanistan, non conoscevo afghani, quindi io ho investito un anno per andare a conoscere circa 1400 persone tramite LinkedIn, fino a quando ho trovato qualcuno che effettivamente fosse serio e fosse interessato ad aiutare. Ho incontrato questa persona che mi ha messo in contatto con queste ragazze appunto che stavano insegnando e da lì è nato poi il progetto assieme a loro. Fabio, se vuoi ci puoi dire di chi si tratta, perché tra l'altro è un amico di Padre Pio TV, una persona che abbiamo intervistato più volte. Esatto. Il professor Daniele Manni è una persona straordinaria a mio punto di vista che sta facendo tantissimo per i giovani. Quando io l'ho notato su LinkedIn, l'ho tampinato per quattro mesi, fino a quando sono riuscito ad avere un appuntamento con lui, l'ho messo in contatto con le nostre ragazze e poi si è inventato lui questo progetto meraviglioso, questa start-up. Se dovessimo fare, scusa Tony, una mappa di queste ragazze che adesso pian piano avranno la vita cambiata, grazie alla vostra intuizione, che mappa è? Riguarda soprattutto la capitale Kabul o anche altri luoghi? Riguarda altri luoghi, non possiamo dire chiaramente la località, poiché appunto è proibito studiare. Certo, si metterebbero anche in pericolo le persone, però appunto per comprendere l'importanza proprio della tecnologia per sfuggire dalle maglie, da quello che una volta si diceva il controllo occhiuto e che purtroppo ancora esiste. Qui davvero abbiamo passato solo una settimana fa, la giornata intera e anche molte ore prima e dopo, a cercare di raccogliere con intensità tutte le grida di dolore delle donne contro la violenza, ma dal punto di vista della prevenzione di questa violenza purtroppo abbiamo visto l'Occidente proprio mancare in casi come questo, che ci ha strappato il cuore. E la storia di Fabio è molto bella e interessante perché ci dimostra, ecco, come del resto stavamo già dicendo, quanto si possa essere utili anche da casa nostra, utilizzando correttamente lo strumento, gli strumenti della tecnologia, creando networking, relazioni e reti sane, quindi ci parlava della collaborazione con il professor Daniele Manni di Lecce, già tante volte intervistato anche da noi di Padre Pio TV, che con Fabio hanno realizzato questa start-up di cui prima vedevamo un articolo sul sito Orizzonte Scuola e quindi con tanta buona volontà e se vogliamo anche con pochi strumenti, Fabio e il professor Manni e le ragazze coinvolte nel progetto stanno dando una grande opportunità a queste altre colleghe studentesse afghane che purtroppo non possono, ecco, studiare liberamente, tranquillamente come facciamo noi nell'Occidente. Quindi Fabio, davvero complimenti per il tuo impegno e per questo progetto. Che cosa c'è all'orizzonte? Ma guarda, grazie alla vostra meravigliosa regione, la Puglia, ci siamo connessi con l'Istituto Panetti di Bari e adesso stiamo iniziando proprio un gemellaggio online dove c'è la possibilità per gli studenti italiani di conoscere non solo il discorso culturale ma di vedere tramite un video che stanno realizzando qual è la vita quotidiana delle ragazze in Afghanistan oggi e tramite questo hanno la possibilità di rivalutare quella che è la loro giornata tipo di oggi cioè tutto quel ben di Dio che oggigiorno si dà per scontato. Quindi è un progetto secondo me molto molto interessante per far sì che gli studenti italiani riprendano coscienza di tutto il ben di Dio che è a loro disposizione e che però non viene più valutato come tale ma come un qualcosa di scontato. Sono d'accordo, è molto importante questo confronto oggi per i nostri ragazzi che davvero si sono trovati fortunatamente a nascere e vivere in un contesto dove i diritti sono tanti, sono diffusi e sapere che in altre regioni del mondo, in altre parti del mondo gli stessi diritti purtroppo non appartengono ai loro coetani dovrebbe spingerli ad essere più vigili, più attenti, più consapevoli di quello che viviamo e abbattersi come stai facendo del resto tu per chi appunto questi diritti li vede negati. Sì e poi non dobbiamo dimenticare l'altra faccia della medaglia cioè che anche in Italia c'è bisogno ancora di insegnanti, di volontari eroi per recuperare quelli che a scuola comunque non ci vanno perché non dimentichiamo che anche il nostro paese con le solite definizioni a macchia di leopardo contemporaneamente ad eccellenze straordinarie ha anche situazioni davvero inaccettabili dal punto di vista dell'istruzione. Vedevo che Fabio annuiva. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con voi. Questa è una bellissima opportunità per rivalutare se stessi attraverso gli occhi di chi in questo momento è privato di situazioni, di privilegi, di opportunità come quelli semplicemente di poter andare a scuola o di tutto, non possono andare al parco, non possono fare niente e questo può essere uno specchio per riguardare noi stessi in modo diverso e rivalutarci. Abbiamo fatto arrivare il nostro abbraccio veramente affettoso. Molto bene Fabio, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza ti auguriamo un buon lavoro e grazie per quello che fai invitiamo il pubblico a seguirti su LinkedIn a cercare appunto anche la pagina del progetto School of Enlightenment per tenervi aggiornati sulle vostre attività. E del resto una persona che si chiama Fabio Diamante non poteva che brillare, complimenti. Grazie mille alla vostra regione meravigliosa e alla vostra trasmissione per avermi accettato. Grazie a te, quindi ti salutiamo con un arrivederci speriamo di risentirci presto, magari prossimo anno con delle altre belle novità. Bene, noi restituiamo per il momento la linea alla regia poi ci ritroviamo di nuovo insieme andiamo, vado a vedere se nella nostra casella di posta ci sono altre vostre cartoline digitali e poi come detto incontreremo, ritroveremo Fra Rinaldo Totalo, guardiano del convento di San Giovanni Rotondo per scoprire che cosa succede appunto al convento. Linea alla regia. Grazie a tutti. Grazie.